benvenuti a tutti in quest'ultima micro lezione ci presentiamo un po e quindi vediamo che sono le persone che lavorano con me e soprattutto che cosa ci occupiamo che può essere interessante per le scuole quello di cui vi parlerò sono i cosiddetti oggetti intelligenti e come li realizziamo con le scuole ci occupiamo di computazione fisica ovvero prendiamo dei microcontrollori aperti con delle porte disponibili alle quali possiamo collegare i vari oggetti lo vedremo in seguito e facili da programmare o comunque veloci da programmare un esempio che forse conoscete al microbit ci occupiamo anche di progettazione e prototipazione fisica quindi non ci limitiamo a modelli concettuali ma cerchiamo di creare dei modelli fisici degli oggetti intelligenti che vogliamo creare soprattutto lavoriamo a stretto contatto con gli insegnanti di scuola i ragazzi cercando di coinvolgere tutti quanti nella progettazione di oggetti intelligenti utili per la scuola per farciò in genere partiamo da materiale con le quali con il quale le persone come insegnanti i ragazzi e ragazze si trovano a proprio agio per esempio per progettare l'idea di un oggetto intelligente ci siamo inventati un gioco per progettare per ideare per creare proprio l'idea e questo è il frutto di un lavoro di una dottoranda e fichiaru melioti il gioco è partito come un gioco da tavolo con delle carte relative alle componenti principali di questi oggetti intelligenti e anche grazie purtroppo a questo periodo emergenziale è diventato un gioco che presto potrete giocare online e una prima versione è già disponibile dove vedete nel video di prova serve proprio ad avviare i ragazzi e scolaresche in generale le classi all'ideazione di quello che diverrà poi fisicamente il prototipo di un oggetto intelligente quindi vengono guidati in qualche modo da quello che si chiama un linguaggio semicontrollato e delle carte relative ai componenti dell'oggetto intelligente dopodiché in genere ci incontriamo quest'anno vedremo in qualche modo come fare probabilmente terremo delle video lezioni e presteremo del materiale ci incontriamo per spiegare ai ragazzi come passare dalla parte di progettazione della loro idea alla parte di programmazione tramite appunto la micro elettronica da programmare insieme vediamo ad esempio componenti semplici come un microcontrollore e vari sensori o attuatori che possiamo collegare facilmente a questo microcontrollore e di cui possiamo programmare il comportamento intelligente insieme arriviamo quindi alla parte di prototipazione fisica quindi realizzazione concreta di questo oggetto che rendiamo intelligente tramite materiale povero come può essere carta o materiale come lego oppure materiale più sofisticato secondo delle esigenze che può essere creato utilizzando per esempio una stampante 3d o una tagliatrice ecco questi siamo diciamo così questo è il nucleo centrale di questo gruppo che si occupa di human technologies il nucleo centrale che si occupa in particolare della cosiddetta computazione fisica e prototipazione fisica siamo in particolare Rosela Gennari, Alessandra Melonio, Madeleine Zvi e Fichiaro Meliotti che ha ideato questo gioco di cui vi ho parlato all'inizio in più lavoriamo a stretto contatto con insegnanti che hanno voglia di creare con noi un nuovo modo di apprendere e imparare e in particolare devo ringraziare soprattutto Andrea Bonani che ci ha seguiti in questi anni con tanta passione a presto spero a tutti